Anche quest'anno Fiume di Nisi torna a celebrare per il secondo anno consecutivo la Doc Mamertino in occasione della ventunesima edizione della sagra Capricci d'autunno tenutasi nelle scorse settimane nella suggestiva cittadina messinese. Nuova e versatile ma dal passato antico e glorioso la Doc Mamertino, una delle tre Doc messinesi che abbraccia moltissimi comuni della provincia, in larga parte siti principalmente sul versante tirrenico, in quegli areali che comprendono la Valle del Tindari, la Valle del Mela e l'areale milazzese, ma anche sulla fascia ionica. È stato il sommelier professionista e delegato della sezione AIS di Taormina, Gioele Micali, a condurre due masterclass degustazioni, una riservata a nove vini bianchi, l'altra ad otto vini rossi. Tutti Mamertino Doc, noi l'abbiamo intervistato prima dell'inizio delle masterclass. Per il secondo anno consecutivo qui a Fiume di Nisi, grazie all'invito del Comune di Fiume di Nisi e dell'associazione organizzatrice, la ventunesima edizione della manifestazione I Capricci d'autunno, ha ancora una volta a raccontare l'eccellenza di questa Doc messinese. Per la seconda edizione il titolo del convegno e masterclass Mamertino da Giulio Cesare, i nostri giorni, vuole ancora una volta accendere i riflettori su questa Doc del territorio, che sicuramente ha un passato assai antico. Attorno a questo momento di confronto e condivisione, insieme ai produttori, racconteremo questa denominazione attraverso due momenti distinti. Il primo momento dedicato alla masterclass Sul Mamertino Bianco, a seguire il secondo momento dedicato alla masterclass Sul Mamertino Rosso e Sul Mamertino Rosso Riserva. Lo faremo insieme ai produttori, attraverso questo momento esperienziale di confronto, di approfondimento di vari territori. Ricordiamolo, la stragrande maggioranza dei comuni dell'areale della Doc risiede nella parte tirrenica, attraverso vari areali produttivi. Mamertino di Milazzo è chiamato un ad hoc nata nel 2004, ma dal passato assai antico, celebrato da diversi autori della letteratura antica. Stasera siamo ancora una volta qui per comunicare, attraverso la prova, le esperienze e le filosofie produttive degli attori protagonisti delle aziende, quale ancora è la potenzialità della Doc Mamertino. Abbiamo chiesto a Gioele e Michali quali sono le caratteristiche precipue di questa Doc. Innanzitutto è un vino che si poggia su diverse tipologie, perché alla Doc Mamertino noi pensiamo alla Doc Mamertino Bianco, Mamertino con dei distingui anche dei vitigni specifici, il grillo, il catarratto e l'inzoglio, alle volte anche vinificati in purezza. Pensiamo al Mamertino Rosso, Mamertino Rosso Riserva, Mamertino Nero Davola, Mamertino Nero Davola Riserva. Anche la stessa tipologia del bianco prevede la menzione riserva. Quindi sicuramente tipologie differenti, accomunate dal fatto che comunque ci sono sempre vitigni della tradizione a bacca bianca, quali il grillo, il catarratto e l'inzoglia, e vitigni della tradizione a bacca nera, quali il Nero Davola e il Nocera, nonostante siano appunto permessi da disciplinare, riconosciuto nel 2004, anche altre uve, con una presenza facoltativa anche di vitigni internazionali. Sicuramente anche dei vini che leggono dei territori diversi, perché dalla viticoltura di mare, di vigneti che lambiscono le coste, fino ad arrivare a una viticoltura d'alta quota, dalla fascia pedemontana ai vigneti appunto d'alta collina. Quindi anche profili organolettici differenti. Presenti per l'occasione il sindaco di Fiume di Nisi, Giovanni De Luca, e i deputati del Parlamento siciliano, Pippo Lombardo e Cateno De Luca. E daremo l'incarico per la formulazione del piano strategico non solo del Comune di Taormina, ma dell'Unione dei Comuni e in questa impostazione la nostra strategia riguarderà tutta la riviera ionica, perché è fondamentale che a Taormina colleghiamo tutte le eccellenze del nostro territorio e quindi valorizzare le nostre tipicità, che hanno un elemento che va sempre tenuto presente. Non sono prodotti che riguardano l'attività cosiddetta intensiva, quindi sono prodotti di nicchia che hanno il loro valore se consumati in un territorio e nel territorio che li produce. In questo Taormina sicuramente può rappresentare il faro per l'intera riviera ionica. De Luca è tornato nel suo paese d'origine anche per presentare il suo libro Non tutto è successo. Non tutto è successo, è un messaggio che intanto come primo significato è rivolto ai giovani, i quali devono comprendere che i risultati si ottengono con grandi sacrifici, rinunce e spesso anche la capacità di essere costanti anche al cospetto di colpi bassi che la vita ti riserva. Il secondo significato è quello che a 51 anni ancora non mi sento di dire che debba ovviamente appendere le scarpe al chiodo e quindi ancora tanti altri sogni da realizzare, anche se devo dire che con grande fatica proprio partendo dalla metropoli di Fiume di Nisi ne ho realizzati tanti. Il terzo significato è quello di aver avuto la possibilità, la fortuna, la protezione del buon Dio rispetto a programmi criminali che qualcuno ha immaginato nei miei confronti per ammazzarmi e questo non si è verificato, non è successo. Abbiamo voluto ripetere questa iniziativa che è il convegno sulla Docma Mertino con le conseguenti masterclass di degustazione, il vino bianco e il vino rosso dopo il grande successo dello scorso anno e l'abbiamo voluto ripetere in occasione di Capricci d'autunno la sagra di prodotti tipici della Valle del Nisi, non solo di Fiume di Nisi ma tutta la vallata del Nisi e dei Monti Peloritani. Un'iniziativa che ormai è giunta alla ventunesima edizione che negli anni è sempre cresciuta, quest'anno abbiamo avuto moltissimi visitatori, tra l'altro in questi due weekend abbiamo proprio chiuso con questa iniziativa culturale enogastronomica che guarda le tradizioni anche agricole del nostro territorio che si trasforma un'eccellenza che è quella di un vino tipico di una denominazione d'origine controllata che è il Mamertino che per molto tempo è stato forse sottovalutato ma negli ultimi anni con anche la ripresa di varie aziende agricole ha riproposto il proprio nome nell'ambito del mercato nazionale non solo. Quindi vogliamo appunto sottolineare l'importanza di questa denominazione d'origine controllata di questo vino per poter espandere magari la sua commercializzazione o comunque darne maggiore risalto possibile visto che l'intento è proprio quello della promozione dei prodotti tipici e delle tradizioni locali. La platea che ha affollato i locali della Scuola degli Antichi Mestieri ha ascoltato con interesse i racconti e l'esperienza in vigna dei produttori presenti che hanno messo a disposizione i propri vini per la riuscita dell'iniziativa. Noi abbiamo raccolto la testimonianza della cantina Principi di Mola, azienda agricola Salvo. Principi di Mola che ha una tradizione secolare nella produzione del vino e nello specifico nel Mamertino. Noi stasera siamo presenti e ringraziamo la delegazione Aista Ormina per l'invito siamo presenti a rappresentare il Mamertino Bianco uno dei due tipi di Mamertino presenti a disciplinare e nello specifico il nostro è un Mamertino Bianco del 2022 realizzato con vitigni autoctoni, catarratto, insoli e grillo. Il Mamertino Bianco tra i vari Mamertini e gli altri vini che produciamo è quello a cui siamo particolarmente legati perché comunque rappresenta tanto a partire dal fatto che è stato il nostro primo tipo di Mamertino imbottigliato e passando per il fatto che abbiamo utilizzato questo tipo di vino per festeggiare diverse ricorrenze e anche tanti altri nostri clienti hanno scelto il Mamertino per festeggiare diverse loro ricorrenze quindi per noi è un vino da festa e ci tenevamo visto che comunque oggi siamo presenti a Capriccio d'Otunno a condividere questo clima conviviale anche con tutti coloro che parteciperanno alla Masterclass. Anche allora abbiamo chiesto di raccontarci nel dettaglio il vino di loro produzione. Il vino così come lo conosciamo noi ha circa una decina d'anni di esperienza prima producevamo il vino in maniera differente era orientato ad altri tipi di mercati ed era prodotto con tecniche differenti per via di un'intuizione principalmente di mio fratello abbiamo deciso di cambiare sia la metodologia di realizzazione del vino sia anche le tecniche di allevamento dell'uva quindi tecniche di impianto, tipologie di sesto parziale, proprietà digitale, meccanizzazione e quindi una sorta di ammodernamento generale in quel momento abbiamo preso una scelta che per certi versi è anche un po' coraggiosa che è quella di puntare sui sentori primari e secondari quindi non facciamo botte il nostro obiettivo è proprio quello di riuscire a portare nel calice tutto ciò che la vigna riesce a realizzare nell'arco delle sue annate altro momento interessante è stato quello offerto dal pizzaiolo Giovanni Famà per ben due anni presente nel ristretto novero dei pizzaioli di casa Sanremo che ha offerto in degustazione due pizze in abbinamento ai vini delle masterclass per l'occasione Famà ha creato due nuove pizze dall'inedito mix di ingredienti che ha chiamato Capriccio e Autunno abbiamo scelto praticamente una pizza per un vino bianco allora un pochino delicata con pomodori gialli, mozzarella, zucchine, funghi freschi e pomodori secchi senza mettere affettati e cose varie per non dare pesantezza alla pizza per il rosso abbiamo deciso una pizza bianca in uscita porchetta, noci e ricotta fresca per cosa viene apprezzata la sua pizza? viene apprezzata molto per l'impasto, per il gusto, la leggerezza la mia pizza non è una pizza napoletana però va verso Napoli ecco, con maturazione molto lenta, lontana e una, diciamo, tutto questo grazie al mio maestro mentore Enzo Pierimonte però la mia comunque, ripeto, non è una pizza napoletana facciamo 24-30 ore di maturazione un mix di farine scelto da me e praticamente è questo che piace molto alle persone topping un pochino ricercati fate le prime anche di zona e tutto fa una buona pizza, diciamo anche quest'anno Fama tornerà a casa Sanremo se tutto va bene dal 4 al 10 saremo di nuovo a Sanremo, sì i vitigni che contribuiscono per lo più alla Docma Mertino sono per i bianchi, il grillo, il cataratto e l'inzolia mentre per i rossi il nero d'avola e il nocera i vini approfonditi nella prima masterclass dedicata al Mamertino Bianco sono stati Principi di Mola Mamertino Bianco Dopp Mamertino Bianco Bio dell'azienda agricola Vasari il Bianco di Fontanelle di Barone Riolo che ho particolarmente apprezzato insieme al quarto vino il Mamertino di Milazzo di Cantine Mimmo Paone Gloria di Sulleria di Sapuri Cantina Siciliana ottimo ed equilibrato Catalina Tenuta Gatti che è fra quelli che ho preferito Guzman Mamertino Bianco di Tenuta Moreri Selene di Terre dell'Evriero fatto con uve raccolte nelle prime ore del mattino e in cui ho ritrovato quella brezza per chiudere con il Mamertino Bianco di Vignanica Grazie per la visione Grazie per la visione